Giovanni Colombo dopo 16 anni di governo della Diocesi di Milano per ragioni di salute si ritirò e al suo posto arrivò un padre gesuita, Carlo Maria Martini, che il Papa Giovanni Paolo II aveva conosciuto in visita pastorale presso la Università Gregoriana di Roma dove era rettore. Il Cardinal Martini fece il suo ingresso a Milano il 2 febbraio del 1980. Il Cardinal Martini è l'attuale arcivescovo di Milano che tutto il mondo ha imparato ad apprezzare. Se Martini fosse un arcivescovo della sua memoria come gli altri, che cosa direbbe? Guardi, è un uomo profondamente radicato nella parola di Dio, ma proprio questo radicamento della parola di Dio lo apre a leggere nella luce della parola di Dio il presente. E' sensibilissimo, direi che ha delle antenne arci sensibili a cogliere i bisogni del momento. Il suo ottavo Cardinale. Il Cardinale, che dovrà venire, certo non potrà ignorare la lida di tutti i suoi predecessori, compresi l'attuale, questo primato della parola. Dovrà essere molto attento al presente, alla storia dell'uomo oggi, nel saper cogliere quello che per la maggior parte è inespresso e infondere una grande fiducia. E sapere che sia un pastore. Ecco, oggi si sente molto il bisogno del pastore. Un uomo di governo, ma di governo pastorale. Grazie.